Uh, siamo in diretta? Allora, siamo in diretta, diretta così non annunciata ragazzi, così, giusto perché diciamo, tanto che non vado in diretta, su Facebook non è stata annunciata, ecco i log azioni. Allora, c'è qualcuno, mi sentite? Aspettiamo che si crea il pubblico, ora io è tanto, non so che orario sia, se è buono o non è buono, c'è qualcuno ragazzi? No, perché ero con, praticamente, nel gruppo privato di alcuni musicisti consapevoli, nel gruppo privato degli studenti del mio corso, che appunto stavamo discutendo su alcune cose, mi è venuta in mente questa cosa che è molto importante, la semplicità all'inizio, è importante, perché sì, noi diciamo tante cose, ci sono tante cose da fare, scelte da prendere, però all'inizio, se state pubblicando la vostra prima canzone, ditemi se mi sentite, se si sente, se state pubblicando, state facendo proprio le vostre prime cose, bene, partite semplici, ora vi faccio un esempio proprio per capire che cosa sto dicendo, ok? Allora, per esempio, prendiamo la questione che poi era proprio lo spunto che mi ha dato questo video, no? Un musicista mi ha chiesto, ma io voglio proporre il mio brano alle playlist editoriali di Spotify, però è il mio primo brano, e quindi non ho l'account di Spotify for Artist, perché non ho mai pubblicato niente, come posso fare? Allora, si può fare in teoria questa cosa, perché come funziona? Tu hai, diciamo, il tuo profilo Spotify, fai richiesta per gestirlo attraverso Spotify for Artist, dopodiché, quando pubblichi una canzone, la pubblichi, diciamo, un po' di tempo prima, in modo che hai, tramite Spotify for Artist, il tempo di poterla poi proporla alle playlist editoriali di Spotify, perché Spotify ti permette di proporle, di proporre la tua musica soltanto a musica che ancora devi pubblicare, e almeno una settimana prima devi fare la richiesta. Quindi, se non hai già il tuo profilo Spotify, di solito è il distributore che ti crea il profilo Spotify quando pubblichi una prima canzone. Allora, alla tua prima pubblicazione ti viene creato l'account Spotify. Però, se è la tua prima pubblicazione, quindi, tu non hai un account Spotify che puoi gestire con Spotify for Artist e quindi puoi mandare la richiesta, ad esempio, per entrare, per proporre il tuo brano che uscirà magari fra un mese alle playlist editoriali. Quindi, che cosa si fa? In teoria, puoi, dovresti contattare il distributore, chiedergli appunto di fare, di creare prima l'account e non in concomitanza con l'uscita del brano, ma creare l'account prima, così che tu ce l'hai prima e puoi proporlo. Però, molto spesso, poi dipende dal distributore, dipende da tante cose. Dipende, appunto, da se rispondono, se c'è, se il tuo distributore ha un buon servizio di supporto. Allora, parti semplice. La prima, pubblichi una prima canzone, aspetti che quella canzone viene pubblicata. Rinunci, diciamo, a proporre quella canzone, la prima canzone, alle playlist editoriali, però fai la tua prima pubblicazione, ottieni così il profilo Spotify, perché quando esce la canzone tu hai il tuo profilo Spotify, dopodiché chiedi di gestire il tuo profilo Spotify con Spotify for Artists, una volta che ti viene concesso, entri, fai tutte le tue modifiche e alla seconda pubblicazione, che cosa fai? Alla seconda pubblicazione puoi tranquillamente caricare sul distributore la tua canzone, programmare l'uscita e dopodiché, che cosa fai? Una volta che hai programmato l'uscita sul distributore, vai sul tuo Spotify for Artists, che a questo punto hai già l'account, hai tutto, il profilo, e ti uscirà nella sezione, credo, upcoming si chiami, la possibilità poi di proporre alla tua playlist, diciamo, la tua canzone alle playlist editoriali di Spotify. Quindi all'inizio, partite semplici, inutile che dici, no, ma voglio per la prima uscita, partite semplici, pubblicate una canzone così, avete già il profilo, scegliete una canzone magari che volete, un primo singolo, dopodiché, quindi magari se volete, puntate su una determinata canzone, magari la pubblicate dopo, che avete, non la pubblicate come prima pubblicazione, ok, questo è un po' il senso, oppure voglio fare la richiesta per il canale ufficiale artista di YouTube, arriverà, intanto pubblica, devi almeno fare tre canzoni, diciamo, tre pubblicazioni, dopo potrai chiedere, lo faccio col distributore, oppure io ho semplicemente mandato una mail, e quello si è attivato, voglio dire, partite semplici, senza pensare a tutte queste cose, al canale ufficiale, al playlist, pubblicate le vostre canzoni, e poi, ovviamente, con l'esperienza, con il tempo, potete affinare e cercare, appunto, di avere poi padronanza di tutti gli strumenti che ci sono a disposizione, ma all'inizio non vi fasciate la testa, per nulla, partite in modo semplice, io non so se qualcuno ha sentito, comunque, lascerò la registrazione qui sulla pagina, e quindi questo era, cioè, non vi fasciate la testa, non cercate cose incredibili, pubblicate le vostre canzoni, cercate prima di, appunto, far arrivare alla gente la vostra musica, e dopo potete, appunto, poi si impara facendo, e poi, se volete approfondire, ovviamente, io, ci sono altri video, ci sono tanti video su questi argomenti che ho toccato, c'è il mio blog, michelemaralino.com, per affinare, diciamo, qualsiasi cosa, dice, come faccio il preskitt, come lo faccio online, lo faccio... Intanto, parti, parti semplice, pubblica la tua musica, vedi che succede, che cosa succede, inizi a mandare le prime mail di promozione, ma non puoi fare tutto all'inizio, il consiglio è, parti semplice, non puoi partire dalla fine, addirittura, proporre la tua canzone alle playlist editoriali, ci grande oresti, mi avete ispirato, dopo la video chiamata, ho detto, vado in diretta, quindi, all'inizio, semplice, non state lì a pensare, a partire dalla fine, come faccio con le playlist, oppure, come faccio ad avere, come funziona Instagram, o la sponsorizzata, o meglio, alla fine, all'inizio, partite semplici. Questo è il mio consiglio, se ne parlava appunto nel, nel gruppo, dei miei studenti, e quindi ho voluto riportare questa cosa, spero si sia sentita, perché, bene, grande Michele, grande Oreste, e, se non ci sono domande, io, sono le 20, vi saluto, arriveranno tante belle testimonianze, a proposito di Oreste, sugli studenti dei miei corsi, dopo quella che abbiamo fatto, a Milano questo weekend, che mi dispiace, non si sentiva molto, bene, c'era un brusio, di sottofondo, e non mi ero accorto, con Marco, di MF, M Press, ne arriveranno altre, e quindi, continuate a seguirmi, e, nulla, io a questo punto, vi saluto, non vi fasciate la testa, prima di cominciare, non pensate, di partire dalla fine, con le finezze, le playlist, propormi a quelle editoriali, come faccio, non ho l'account, voglio Spotify for Artists, ma non ho mai pubblicato, all'inizio, partite, pubblicate le prime canzoni, partite facile, pubblicate un video su Facebook, condividetelo su YouTube, pubblicate un videoclip, cose semplici, vedete che succede, dopodiché, capirete, strada facendo, ho fatto una marea di video, sul mio canale YouTube, trovate tutorial su ogni cosa, in modo veramente gratuito, poi ci sono anche i corsi, come dicevamo appunto, per chi vuole, sono molto utili, quindi, tutti quelli che li hanno presi, hanno fatto bene, quindi, ragazzi, partite, semplice, mi raccomando, io vi saluto, vi saluto, spero si sia sentito, e partite, semplice, mi raccomando, va bene, buona, buona continuazione, un saluto, piccola diretta al volo, non annunciata, ciao Nicola Palumbo, sei arrivato tardi, ti saluto, non ci vediamo più, perché, se, sei un grande, sei un grande, va bene ragazzi, dai amici, mi fascio tutta la testa, sì, sì, non, 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 parti semplici, anche tu, è un consiglio, no, anche per i social media, partite semplici, va bene, ti logo o mi lovi, ti lovo, ok, va bene, quindi, partite semplici, poi, se volete, michelemaralino.com slash corsi, imparate tutto, oppure, se non volete, iscrivetevi al gruppo Il Segreto per Vivere di Musica, su Facebook, ci vediamo lì, questa piccola diretta, se non avete domande, guarda, posso restare qualche minuto, non so perché, sarà stato questo weekend, a Milano mi ha fatto venire l'accento, è stato fighissimo, ringrazio tutti, quelli che sono venuti, oggi ho pubblicato un primo, un primo estratto, dal workshop, è durato un'ora e mezza, ci sono state, è stato veramente figo, ringrazio Luca di 0371 Music Press, per aver organizzato, ne faremo altri, probabilmente il prossimo sarà a Torino, poi sicuramente si scende giù ragazzi, faremo qualcosa anche verso Roma, e anche più al sud, comunque, se volete organizzare un raduno dei musicisti consapevoli, dovete scrivere a 0371 Music Press, a Luca San Martino, e se avete un posto nella vostra città, o un locale, a cui farebbe piacere ospitare un workshop, gli incontri che facciamo sono tutti a titolo gratuito, quindi non si manca un biglietto, se ci sono le condizioni, c'è un bel posto, c'è qualcuno che mi segue, e lì c'è, diciamo nel territorio, tante persone, che mi seguono, allora si può organizzare, io arrivo, io arrivo, comunque scrivete, credo sia, infochiocciola 0371 musicpress.com, oddio, non so se c'è Luca, la mail dovrebbe essere questa, sì, comunque, chiedete anche, iscrivetevi al, se non siete iscritti, scrivete sul gruppo, taggando Luca San Martino, il gruppo è Il Segreto per Vivere di Musica, su Facebook, Entrate se non siete, cioè fate richiesta, ed entrate, e lì poi scrivete, se c'è qualche, se avete voglia, e c'è qualche situazione, per appunto, vederci di persona, perché quest'anno, dai, questo weekend a Milano, è stato molto figo, e quindi, e quindi, lo, 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 ne facciamo altri, va bene ragazzi, se non ci sono domande, se non ci sono domande, se non ci sono domande, io vado, io vado, 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 c'è un sacco di video, in arrivo, anzi, vi ringrazio, il canale YouTube, sta subendo, anche con la sua, diciamo, lentezza, sta, sta raggiungendo, stiamo per raggiungere, stiamo per raggiungere, raggiungere i, i 4 mila iscritti, quindi, si cresce, si cresce, andate, se non siete iscritti al canale YouTube, fatelo, iscrivetevi, stanno arrivando tanti bei video, va bene ragazzi, non ci sono domande, io vi saluto, buona serata, partite semplici, non esagerate, con le cose troppo complicate, che volete fare all'inizio, pubblicate la vostra musica, vedete che succede, e poi, pian piano, si impara, non partire, non partite dalla fine, partite facili, cose semplici, va bene, ciao ragazzi, buona serata, ci vediamo, seguitemi, ci vediamo, nei prossimi video, ciao!